NEMO D4LE Programmazione base Premere il tasto OK più volte fino al raggiungimento della scritta NEMO D4LE Tenere premuto il tasto OK fino alla visualizzazione della scritta PASS Con i tasti freccine inserire la password 1000 e confermare con OK Premere poi il tasto OK più volte fino al raggiungimento della scritta SIS In base all'impianto collegato con i tasti freccine scegli la giusta configurazione e conferma poi col tasto OK Di nuovo premere il tasto OK per confermare o modificare i vari parametri fino ad arrivare alla scritta PASS Sempre con i tasti freccine inserire la password 2001 e confermare con OK Siamo agli ultimi passi obbligatori della configurazione base Qui dobbiamo scegliere il rapporto di corrente del trasformatore montato Confermare con OK e selezionare il valore corretto del trasformatore di tensione In caso di tensione diretta lasciare 1 Ultima conferma e lo strumento si spegne per un reset ed è quindi pronto per l'uso Grazie a tutti